L'incontro tra Frattura e Medici del Veneziale di Isernia rientra nel programma del Presidente che vuole rimodulare il piano sanitario di Basso e Rosato, parlando con gli operatori del settore e ridiscutendo priorità ed emergenze. Così dopo Venafro e Termoli, il Governatore ha di buon grado accettato l'invito dei Medici del Veneziale per trovare una linea comune di intervento che aiuti la sanità isernina ad uscire dall'attuale situazione di grossa crisi. Perché avete voluto Frattura qui a Isernia? Abbiamo voluto l'assessore alla sanità, nonché il Presidente della Regione Molise perché era stato pubblicato sul sito della Regione Molise il piano basso. Un piano che noi tutti contestiamo fortemente, però non è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise. Quindi abbiamo capito da questa cosa che ci sono ancora possibilità di poter lavorare bene per poter difendere quelle che sono le specialità presenti nell'ospedale di Isernia e per poter lavorare in concertazione con tutti gli altri ospedali della Regione Molise e dividere quello che adesso è rimasto della sanità per poter lavorare tutti ma tutti bene nel rispetto del paziente. Frattura anche a Isernia ha riconfermato la sua linea di azione, contestazione e rimodulazione del piano basso. Per questo il piano non è stato più pubblicato. Ripartire da un punto fisso, ospedali per gli acuti a Campobasso Termoli e Isernia, individuazione di un nuovo manager per l'ASDEM e riesame delle decisioni costose e discutibili come quella relativa alla costruzione di un nuovo ospedale a Monteroduni al servizio di Isernia e Venafro. Costa troppo e quei soldi possono essere spesi per migliorare le attuali strutture. Ma anche questa è una scelta in quel piano non concordata, non condivisa. Si tratterà di capire se vale la pena buttare a mare ancora una volta una serie di strutture importanti all'interno della città sia di Isernia che di Venafro per costruire un'altra ulteriore struttura non sapendo cosa fare per esempio di questi immobili. Io penso che l'efficienza sia soprattutto riferita all'offerta di sanità che intendiamo offrire ai molisani.